salve ragazzi benvenuti nuovamente in questo nuovo e fantastico video come vedete sopra la mia testa siamo nel periodo natale e quindi ho deciso visto che siamo qua oggi è una mattinata tranquilla ho deciso come ogni anno di fare il mio solito video di auguri a tutti voi a tutte le vostre famiglie a tutti i vostri amici compagnia bella spero che quest'anno sia andato bene per tutti voi per me è stato un anno molto duro un anno di cambiamento un anno di molto pesante psicologicamente fisicamente mentalmente ho avuto veramente una crisi interiore perché sono cambiate tantissime cose nella mia vita su questo ci ha rimesso anche un po al canale perché sapete che vi avevo già fatto un video precedentemente dove vi dicevo che ero stato assente per 4 o 5 mesi poi piano piano sono riuscito a rimettermi in pari con i video comunque tutto è bene quel che finisce bene vi racconterò poi più avanti delle novità ho intenzione di comprare una action cam di buona qualità adesso vediamo che cosa nei prossimi mesi perché mi piacerebbe di tanto in tanto chiacchierare con voi facendo dei blog anche anche mentre sono in macchina spero che poi questa cosa mi piaccia però siccome ogni tanto mi viene in mente qualcosa mi piacerebbe magari comunicare agli iscritti quelli che guardano i miei video magari di tanto in tanto qualche blocchettino in macchina ci sta però farlo col cellulare sempre un po un casino quindi preferisco magari utilizzare una una action cam ne ho viste diverse non so se orientarmi su gopro o su altre che dicono che sono meglio non lo so adesso valuterò tanto non sarà una cosa imminente se ne parlerà probabilmente prima dell'estate perché adesso c'è un sacco di spese e tutto quanto quindi mettersi via a comprare a fare altre spese comunque ragazzi io spero spero che per voi invece sia stato un anno un buon anno mi auguro che il 2020 sia sia un anno buono per tutti quanti sono contento se con i miei video vi ho fatto anche quest'anno un po di compagnia per me è sempre un piacere stare con voi ringrazio tutti gli iscritti che si sono uniti al canale i nuovi iscritti ad oggi siamo a 1750 iscritti sto guardando adesso dal computer sono molto contento qualcuno si iscrive quindi i vecchi iscritti li ringrazio con tutto il cuore di essere considerato che sono la colonna importante del canale quindi sono ben contento che siano rimasti fedeli al canale ringrazio anche quelli che ne hanno fatto parte per un po di tempo e poi si sono disiscritti perché magari il canale non piaceva più è giusto così però gli è salito lo stesso gli ringrazio di aver fatto comunque parte almeno per un periodo del canale e che comunque l'hanno aiutato un pochettino a crescere anche se è sempre piccolo il canale ma a noi non ce ne frega niente l'importante è che stiamo bene e poi ripeto youtube è un divertimento chi vuole iscriversi si iscrive chi non si vuole iscrivere e vuole solo guardare i video e danno un iscritto va bene lo stesso comunque ragazzi io vi auguro un buon natale buon natale 2019 vi auguro un buon capodanno 2020 spero che passerete delle belle feste in famiglia io purtroppo riuscirò a farmi solo qualche giorno al capodanno perché a natale purtroppo la mia azienda è aperta quindi faremo sicuramente un orario ridotto ma ancora non ci hanno comunicato quindi lascerò di fare mezza giornata comunque lavoreremo sempre perché questa azienda qua non chiude mai 360 giorni 365 giorni su 365 giorni va sempre questa azienda quindi si fa turni noi noi io e gli altri tre o quattro ragazzi che siamo entrati più o meno nello stassi negli stessi giorni comunque siamo gli ultimi arrivati in azienda quindi ci hanno dato giusto il contentino di qualche giorno però almeno che riesco a farmi il capodanno quindi va bene così non ci lamentiamo niente speriamo speriamo che l'anno prossimo anche per youtube sia un anno favorevole continueremo a far video non ci siano intoppi per magari che magari ci siano pochi video ma spero di no purtroppo il tempo è tirato quindi io quando ho tempo faccio sempre volentieri i video spero sempre che i miei video aiutino qualcuno magari nella manutenzione nel dettaglio nelle mie prove nelle mie invenzioni spero che comunque tante volte vi divertiate anche a guardare i video comunque ragazzi vi faccio tantissimi auguri a tutti voi a tutte le vostre famiglie e niente ci vediamo l'anno prossimo questo è l'ultimo video dell'anno vi mando un bacio a tutti quanti all'anno prossimo ragazzi auguroni buon natale buon anno ciao alla prossima